ok ne puoi andare siamo in diretta ragazzi hanno invitato siamo in diretta allora posso sparare cagate una n io non sto in partita e come non stai in partita ma scia ma scioglio la schermata inizia va bene usciamo usciamo uscire fatto altro f4 avviato si 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 lo vedo anch'io li avvio pure io vabbè nessuna partita trovata ma aiutami penso va buono va buono sono usciti france che parata che parata che parata che parata ma ci giochi da pc france roba ogni tanto giocavamo io ma te livelli si diamante due se non ricordo ma pure diamante due ma io vedete rispetto sotto siete usciti girolamo marco mi raccomando risettiamo ricominciamo vediamo la concentrazione ma che vai dite voi quando entrare quando entrare ok allora entrare voglio entrare da passare il capitano che abbiamo metto i tiratori ok per metà te le punizioni corte si manca marco ligno e ne vieni in campo da giù metti e poi insieme a lontano che io vede risultato sotto no pure ma che cazzo non dici uscite maglie che non è uscito ma non è uscito uscito dai ma li prendano e fa un partito vai marco esce marco siamo andiamo fa camminato incredibile ok non fa mettere anche a me passiamo il capitano riguarda di mettere sinistra parte ma anche tu a matteo desto di smettocchi anche voglio quale essere matteo matteo poi matteo 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 teo ci sei teo che ha fatto matteo 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 che ha fatto wifi tabamona connessione matteo 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 che secondo amore senza connessione non so che poca la zona è andato ok 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 l'attenzione difficoltà chiaramente metto la sciocatore ed esce ovviamente si è andato pure c'è qualcuno che fai qua accettato l'invito no 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 ok questa rossa questa ok dai ragazzi dai raga ricominciamo è rialzata la concentrazione in attacco voglio mi raccomando ma gli sono che ci va attaccato atti 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 giro a destra e se lo sta a sinistra dimmelo che mi inverto ci vedete tutte le gare di noi qualcuno manca ma te ci sei perfetto dai ragazzi forse dai ragazzi io giusto per dirvelo questi hanno un punto solo sotto di noi su WPG va bene come tranquillità va bene grazie non c'entrati portiere lanci o c'è destra marco fuori in avanti voglio sempre in avanti hai visto i film di the paper via fammi come difendono 1000 ok, stretti, raga, eh stretti, occhi aperti ci sto se vuoi, Marco centrocampo stretti, raga centrocampo stretti, raga tra di questa seconda parte puntali buona cazzo dai giro buona il giro in grucia bellissima o c'è destra raga un sicuro lancio lancio lanciano accompagniamo da raga accompagniamolo fino in fondo prima palo crescenza in mezzo antonio secondo io al vertice qualcuno stato più al vertice dell'area piccola ranto ma che è sempre il vertice ma basta l'ho capito vado io vado io sul vertice ma palo no 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 ma non voleva scivare i bracetti parla club arriviamo a cosa va bene va bene però chiamatelo il lancio perché sennò non battoni su non ci c'è cannone non ci c'è cannone ho mangiato ma sono un laddito ci faccano bene i ragazzi oggi marco concentrato gli stiamo 0 a 0 non fatevi illusioni buona decisi sulle posizioni non usciamo a cannone andiamo alla presa c'era la perdiamo bravo c'è una cosa troppo no lo stavo abbiati tranquilli l'abbiamo ripresa se voglio qua attenzione qua c'è l'abbiamo in bucata va bene bravo ferre ho qui la palla di prima si si ce l'ho c'è l'abbiamo in bucata ci vado sulla seconda buona ancora andiamo quasi in posizione ok tu andò solo eh buona mi sedisco io buona 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 occhio a sinistra decca scendici bravo posizioni attenzione a sta palla centrale lasciamo lasciamo bravo 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 ci sono pure se vogliamo eccomi bravo claudio libero il centrale salghi melega vai centrale ci sto è il per te per il me lo so ce l'hai no no ho visto ho visto ho visto ho visto ho visto ho visto io lo accompagno io si si raga faranno questi che comunque sono abbastanza molto più bravi funzionamenti ma c'è lunga non così non così non avrebbe subito buona con 5 3 stai concentrando stai concentrato un profetto non so chi era il colore perciò pure in mezzo a caso ti copro io ero buono attenzione ragazzi stiamo concentrati forza forza lascia la mani fuorigioco marco quello lì mia nostra un po' più puliti un po' più puliti linea così tocchettano marco non farmi un po' di blocco ok la buttano subito sul secondo marco marco pene 2 a chissà lasciamo 5 la sulla barriera voglio io ora venga cambiamo fascio io siamo là siamo stretti ci arriviamo voglio però non tutti rimango io esatto oh buona l'importante chiudere la stazione stretti stretti a centro campo stretti stretti buona bravo ce l'hai mi comincia larga sta palla ci sono ancora bravo buona ce l'hai arriviamoci in porta piano piano stavanti poi dopo a un certo punto eh sì perché quando può correre con luce un terzino e dice c'è un'esterno esco io ok di nuovo lì la danno 45 e poi pure butta fuori c'è messo davanti non corretto non corretto non corretto non corretto attenzione al lancione attenzione al lancione raga bravo entra entra dis va bene va bene no da destra va bene però era finito il tempo era finito il tempo era finito il tempo era a destra però ci ha fatto fa molto mazzini destra cross di marco e vedremo che è mafa ragazzi hanno seguito tutto il toio di dis il toio di dis che mi ha mandato a riaggi fatto a posto eh lo so per portare via l'uno ho visto di voglio fare niente oggi abbiamo calato un po' il livello alziamo un po' la concentrazione che si muove sempre sulla verticale quella con la sinistra oggi no che mi c'è doppia linee passaggi le altezze l'avete fatta sì 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 l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto dai laga forza forza lanciamo lancio marco lancio marco marco allargati sto con la spunta che sfiga attenzione attenzione mi amo portiere buona ora giriamo da braccia a braccia avriamo da braccia a braccia vedi incontro marco vado sulla tua dis andate partite 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 sull'esterno troppo tardi è buona è buona è buona troppo tardi in linea con me in linea con me dopo l'arbitro dopo l'arbitro ok attenzione l'obbettino è partito da solo gol lo sapevo dai voglio più attenti lì raga alziamo la concentrazione raga forza forza dai lo lancio vai giro buona buona dai 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 ma tu la metti davanti al difensore mhm occhio alle posizioni raga linea linea fuori gioco fuori gioco fuori gioco vai gravi vai veloce a tega bug 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 chi c'ha andiamo come questi vai che cazzo dai 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 oltre all'arbitro raga buona andò scappare ce l'hai vai eeeh ris guarda pozzata sennò che esce si 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 attenzione linea 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 concentrati raga forza vai raga scarico da chi sto ma vaffanculo che si parla un po' secondo i quinti devono stare attenti voglio molto difensivo andiamo su raga stagare c'è il portiere sembra l'appoggio la data l'indietro poi ce la poi ce la poi ce la poi ce la ma dai occhio gira gira ce l'ho ancora se vuoi marco ci sono no ragazzi ragazzi bravo a tenere la linea ci stanno facendo proprio assai compagno buon anno bravo la ripenti la ripenti in giro attacca in posizione si sta prezzi centro sette centrale via buona attenzione attenzione ancora non facciamo fallo raga con calma con calma buona lungolinea bella 1 contro 1 g saltano come fa non essere un regato del vantaggio la mare vantaggio la mangi giochiamo no staccato pad no copriamo lì comoli veloce uomo di veloce ma il nostro il nostro senza fare fallo calmi 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 buon andò bravo bravo ci sei ci sono ci sono ok vado subito in posizione stretti attenzione ragazzi sono l'imbucata buona giro a destra a sinistra bravo ci sono se vuoi va bene va bene qui è lunga ci sta marco entra dentro entra dentro i due centrali non sempre l'arco marco entra tra terzino e braccetto capito esterno e braccetto sempre davanti fate davanti corto lungo corto lungo va giro va incontro o tutto controllo va giro la lunga va giro eccolo là ancora giro ok adesso tocco guarda giro buona andiamo ci sono ci sono ancora ancora girando si si libera ernest ok va bene va bene va bene 86 ragazzi giudio qua bravo ancora se vuoi bene ancora ancora vai oh ma fattura dai 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 che si apri e che mazza vai non vi sbilanciate non vi sbilanciate ora calma bravo ultimazione ultimazione ultima gia da 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 che ti la prendi alla cadina ne passo alla che te la che te la che te la cazza cazza la cazza cazza ha fatto a bravo ma questo portiere umano non la paro vai giù eh vai giù devo portiere botte nemmo provato un utile a giro voglio mannaccia va bene viva lo sport viva lo sport grandi comunque norma del vantaggio sul rigore mi lascia mai vista